Per i miei figli non è bello vedere nel letto una donna che non è la mamma. Nell'intervista sull'ultimo numero del settimanale Chi, Alena Seredova sottolinea il suo disappunto. La modella è stilista cieca, mamma di due maschi avuti dal matrimonio con Gigi Buffon, storico portiere della Juve e della Nazionale, oggi passato al Paris Saint-Germain, non ha mancato di far sapere a mezzo stampa di non essere contenta che i figli debbano assistere a scene di quotidiana ordinarietà nella nuova famiglia che lo sportivo ha creato con Ilaria D'Amico. Buffon è diventato nuovamente papà e sta trascorrendo le vacanze con tutti i figli, anche quelli avuti dal precedente matrimonio. Situazioni che capitano quando si parla di coppie separate, ma la priorità per la Seredova è la serenità di Thomas e David Lee, tanto da mettere ogni altro aspetto della vita in secondo piano rispetto a loro. Non ultimo il suo rapporto d'amore con Alessandro Nasi, analista finanziario, manager rampante, che ringrazia pubblicamente per essere entrato in punta di piedi in questa famiglia turbata. da una separazione tanto plateale. Impossibile non dimenticare infatti che l'allora moglie del campione venne a conoscenza del tradimento dalle pagine dei giornali. Alena si conferma una donna fedele e alla domanda su chi ti farebbe in un incontro tra Juve e Paris Saint Germain, risponde convinta la vecchia signora.